I negozi che vendono merce straniera nel centro cittadino di Agropoli sono numerosi. Le lamentele da parte dei residenti e dei cittadini agropolesi per un maggiore decoro dell'isola pedonale e per un'offerta commerciale di qualità sono di nuovo al centro dell'attenzione. Agropoli ha una storia, una cultura e un vissuto che, ahimè, non viene né ricordata e né tanto meno rispettata. Quando accade questo si raggiunge un deleterio e defunto risultato, uccidere la bellezza. E lo sfogo di una cittadina del posto che ha pubblicato su Facebook le foto di quella che è diventata Piazza Vittorio Veneto. È disarmante lo stato attuale del centro cittadino, continua la donna, luogo che purtroppo, pur essendo sotto gli occhi di tutti, si presenta come un marciapiede commerciale che non dovrebbe essere. Uccidere l'anima di una città passa anche da queste scelte. L'amministrazione comunale ha tolto il mercato settimanale, dislocando fuori dal centro cittadino e poi accetta di mortificare un presente come il corso principale della nostra bellissima città, rinnegando ogni forma di rispetto per le poche attività che stanno cercando di sopravvivere. Ricordo che il caro sindaco di Capaccio, Palumbo, fece un'ordinanza dove vietava, categoricamente, che sul Corso Italia si potesse avere lo scenario che invece, ahimè, Agropoli offre. Passeggiare per il corso principale di Agropoli e osservare questo scempio e deprimente, scrive un'altra cittadina, non è razzismo il mio o quello di tanti che soffrono di tale scenario, è semplicemente un'offesa ai commercianti agropolesi che devono accettare un centro pieno di negozi indiani che vendono tutti la stessa pacottiglia cinese. Che siano i benvenuti, per carità, ma se vendessero ciò che è la loro cultura, i loro argenti, stoffe, spezie e monili, darebbero sicuramente un volto totalmente diverso al luogo di passeggio e shopping e decoro alla città e ai negozi limitrofi. Questa è la mia opinione riguardo questo disagio che salta all'occhio come un pugno sonoro.